Sotto controllo l'incendio di Monte Urano in prossimità del comune di Raiano che da due giorni sta interessando un territorio coperto di bosche e di vegetazione bassa. Come è la situazione? La situazione oggi è sotto controllo, l'incendio lo possiamo definire sicuramente sotto controllo e anche spento. Dobbiamo procedere ad un'attenta attività di bonifica perché le temperature ancora risultano alte, c'è anche una leggera brezza che ci preoccupa rispetto a delle riprese. Il lavoro fatto oggi dai mezzi aerei della flotta di Stato, dai mezzi aerei regionali, dal personale regionale e dal personale dei vigili del fuoco ci permette di avere questo risultato oggi, però ovviamente viste le condizioni climatiche dobbiamo tenere alta la guardia e procedere ad un'attenta bonifica su alcuni versanti che peraltro abbiamo ben identificato durante un sorvolo di valutazione. Si conoscono le cause dell'incendio? Le cause le appureranno le forze dell'ordine, in particolare i garabinieri forestali che stanno ovviamente indagando su questo aspetto e a noi spetta ovviamente contenere l'incendio e ovviamente fare in maniera tale che non ci siano riprese pericolose per questa bellissima vegetazione di questo posto.